TOTS analisi mensile aprile 2021 Rieccoci in Italia di nuovo per l'aggiornamento di un po' di titoli italiani dopo essere stati per qualche tempo anche lì negli USA man mano cerco sempre di aggiornare un po' tutti i titoli principali mondiali più ogni tanto tirarne fuori qualche uno di nuovo e più il lavoro su appunto lo spacchettamento degli ETF che credo sia molto molto utile ora siamo su TOTS perché un po' è arrivata una richiesta un po' è un titolo appunto che in questo momento può essere può avere senso tenere d'occhio per il motivo che sembrano uscite un po' di notizie su rinnovamento su insomma un po' di novità dal fronte promo e quindi al di là di questo cerchiamo di andare a capire un attimo come è messo il titolo il titolo è messo male lo potete vedere questo è tutto il grafico dal 2001 e praticamente dal 2012 2013 quando aveva toccato i massimi storici a praticamente 145 ha sempre inanellato una serie di massimi minimi decrescenti fino praticamente a ritornare con il mese di ottobre al minimo assoluto che era in area 22 ora è conveniente non è conveniente è utile cioè può essere intelligente un livello come questo per acquistare beh sicuramente abbiamo un riferimento importante cioè abbiamo il riferimento del minimo assoluto e tra l'altro entrare a mercato come spesso spiego dico di entrare a mercato sul riassorbimento di un minimo precedente è sempre cosa buona e giusta perché ad esempio su un titolo del genere io probabilmente mi sarei tenuto comunque uno stop ben chiaro perché un conto se non ci fosse tutta questa parte qui e il titolo fosse questo io qua ritraccia ma immagino che poi vada ancora ad attaccare i massimi ma qui dopo che il titolo mi fa una cosa del genere mi immagino che da qua faccia di nuovo un massimo più basso e vada poi a scendere quindi sicuramente io entrando vedete con il mese di la candela di ottobre allarghiamo un attimo il grafico questa linea verde ricordatevi che era il minimo assoluto del 2003 così capite che livello fosse allora se io ingrandisco questa parte teniamola magari dai massimi ecco con la candela di ottobre il titolo praticamente il prezzo va a chiudere sotto il minimo assoluto generando un nuovo minimo assoluto in area 18 ma la candela di novembre che mi sarebbe piaciuto che invece rompesse ancora e riassorbisse mi avrebbe dato un'entrata sul minimo della candela di ottobre e avrei avuto uno stop sul minimo della candela di novembre di fatto non lo fa quindi mi devo agganciare a questo minimo oppure appunto al livello della candela verde ma avendo questo minimo addirittura un po' più basso posso avere un'entrata ancora più efficiente anticipando chiaramente in area 21 la mia entrata in area 18 1780 il mio stop quindi a quel punto ecco che sarei potuto entrare oggi sarei a 32 quindi avrei praticamente raddoppiato no però 10 euro per ogni azione comprata non sono male non sono male di fatto però vediamo che il mercato qui si compra sembra comprare massimi ok allarghiamo un goccio qui sembra comprare massimi tutti i mesi successivi non compra massimi e adesso abbiamo un mese di aprile che è in forza sprombattuto ad andare ad attaccare i massimi del mese precedente ora qual è il discorso però entrare non entrare il problema è che siamo a questi punti siamo a questi punti con il Fuzibib a 24.000 punti quindi questo mi fa molto paura perché non è scritto da nessuna parte che il Fuzibib debba ritracciare potrebbe andare anche a 30.000 però teniamo conto che 24.000 del Fuzibib è praticamente l'estremo alto di una fascia di prezzo in cui opera il Fuzibib da 14.000-15.000 a 24.000 che tiene praticamente da oltre 10 anni quindi sarà la volta che lo rompe non lo so può darsi magari sì magari no non è questo il punto il punto è che un titolo con il Fuzibib a 24.000 avrebbe dovuto recuperare molto prima molto di più e molto più in fretta invece addirittura dopo marzo questa è la candela di marzo addirittura è scesa ancora quindi mentre altri titoli con la candela di marzo hanno visto proprio una spinta enorme verso l'alto questo ha avuto ancora occasione di andare a scendere e generare proprio un minimo assoluto nuovo quindi questo non mi fa molto piacere quello che mi farebbe allora a questo punto piacere nel caso in cui volessi rientrare se proprio io credo nel titolo come dico sempre l'analisi fondamentale che immagino non sia così eccezionale visto il grafico e quant'altro mi danno fiducia a quel punto si può cominciare a mediare il prezzo anche già da adesso tenete conto che il target qui il primo target è a 38 quindi un po' di margini ancora c'è ma dipende che tipo di orizzonte temporale ha la nostra operazione ce lo vogliamo tenere per 10 anni per 5 anni pensiamo che TOTS rinnoverà la linea e avrà delle idee avrà idee geniali che faranno insomma stravolgere il titolo e lo porteranno a salire insomma in maniera costante informiamoci cerchiamo di capire che notizie escono d'altro canto è anche vero che siamo sui minimi assoluti quindi un possibile recupero è probabile ma attenzione perché l'esperienza mi insegna che non c'è mai fine al ribasso non c'è mai fine sapete perché non c'è mai fine perché quando un titolo ha problemi e fanno gli aumenti di capitale lo fanno raggruppando azioni il titolo prende avete visto l'esempio di Carige e Montepaschi hanno fatto l'aumento di capitale valevano un euro l'hanno riportata giù hanno fatto l'aumento di capitale valeva un euro e mezzo l'hanno riportata giù e adesso sono a 0,000 lì probabilmente è chiaro che con le banche ci siano problemi differenti però attenzione perché non c'è limite al ribasso nel senso che sì il limite c'è a differenza del rialzo che non ha limite reale la differenza è che può andare a zero però quindi qui siamo a 22 dollari dobbiamo avere l'idea chiara generale un po' di analisi fondamentale e un'analisi grafica l'analisi grafica ci dice che il punto potrebbe essere interessante perché siamo sui minimi assoluti perché il titolo ha perso tutto quello che poteva perdere in questi anni e quindi da qui potrebbe sicuramente ripartire ma non è scritto da nessuna parte non è scritto da nessuna parte quindi in questi casi più informazioni abbiamo più abbiamo lucidità su quello che stiamo facendo e meglio è strategia prima di cominciare quindi comunque a livello di operatività mi piacerebbe vedere di nuovo un ritest del livello di 22 o addirittura mi piacerebbe vedere una rottura di nuovo di questo livello 18 qua andando a pescare anche qua 8 9 10 e riassorbimento a quel punto potrebbe essere interessante nel caso in cui poi il titolo vada a riassorbire quel livello è chiaro che magari deve passare del tempo perché il fuzzimib nel frattempo magari storna il titolo risce l'indice in generale scende e magari passano mesi quindi una situazione del genere magari si va a verificare in alcuni 5 6 7 mesi un anno quindi d'altro canto si può anche si può anche provare a aspettare un piccolo storno e provare a cominciare a entrare con piccolissime quantità tenete conto che io queste cose le dico dal punto di vista proprio meramente didattico non mi interessa quello che ognuno di voi fa perché ognuno si deve prendere la responsabilità di quello che fa io non voglio spingere nessuno all'investimento io ne sto facendo soltanto una formazione didattica dal punto di vista dell'approccio operativo non sto dicendo che voi dovete fare così io non lo farò ad esempio TOS non la seguo TOS non mi interessa però dal punto di vista operativo potrebbe avere senso aspettare un piccolo storno e ricomprare magari su questi minimi o sul minimo mensile di questo mese mediando il prezzo nel caso in cui andasse qua sotto ma attenzione perché a meno che non si creda veramente nel titolo mediare il prezzo su un titolo che scende da anni non è cosa buona e giusta perché potresti anche mediare da 29 30 fino a quando il titolo non è a 6 5 4 3 2 1 0 quindi non potete sapere che cosa state facendo cioè dove può arrivare e di conseguenza non è utile mediare la cosa più sensata in assoluto è aspettare un riteste di questo livello di 22 23 addirittura una rottura di questo livello e riassorbimento e provare a entrare con una quantità diciamo intera cioè voglio mettere 1000 euro in tutto su Toz ok in riassorbimento di un livello del genere entro con i 1000 euro ipotetici e mi metto uno stop però mi metto uno stop non mi dirò mai il prezzo su un titolo che scende da 7 anni quindi questo credo che sia abbastanza chiaro detto questo i margini di crescita i margini di recupero più che di crescita ci sono nella speranza che anche Toz si muova per fare il possibile a livello di strategia e di approccio insomma aziendale per poter far recuperare il titolo con innovazione con prodotti con sanamento di bilancio con bilanci a posto e con prospettiva con rinnovamento della linea e quant'altro quindi direi che per quello che riguarda Toz è tutto abbiamo adesso aprile che sta spingendo verso l'alto la prima cosa che potrebbe essere e appunto andare a rompere il massimo dei mesi precedenti e cercare di andare a testare questo target a 38 cosa che non so vediamo cosa succede o se no altrimenti tornare e tornare di nuovo su questa fascia di prezzo di 22 in mezzo a queste due si può pensare appunto a un entry il più vicino possibile a questa fascia bassa ok che ci darebbe anche se il prezzo andasse a ritestare i 22 e volessi entrare su quel livello potrei a quel punto mettermi uno stop a 18 non è uno stop piccolissimo perché sono 4 euro di stop ad azione ma è uno stop cioè è una cosa chiara e io so esattamente quanto vado a perdere su ogni su ogni azione nel caso in cui il prezzo mi andasse ancora contro e andasse a pescare più sotto quindi non è vivere nel buio rantolare con la speranza che continuando a comprare medio il prezzo e prima o poi risale questo non è assolutamente il modo con cui si opera detto questo io vi rinnovo l'appuntamento tutti i giorni alle 14 con l'azionario mondiale il lunedì sera con le materie prime il venerdì sera con gli etf ieri sera non è uscito il titolo non ce l'ho fatta ci vediamo venerdì prossimo grazie